Bentornati su Poimbrick, oggi vi farò vedere come realizzare un espositore per i vostri minifigure preferiti partendo dalla cornice riba dell'IKEA. Innanzitutto ci serve la cornice, abbiamo detto la riba che si può acquistare all'IKEA, mi raccomando da del solito 25 cm perché ne esiste una anche più grande e c'è nella colorazione bianca o nera. Poi vi serve uno sfondo a colori che potete scaricare dal nostro sito www.poimbrick.com, ce n'è uno per ogni serie dei minifigure lego uscite fino ad adesso, anche le serie speciali, quindi quella del calcio e quella delle olimpiadi. Lo potete stampare su carta normale quindi da 80 a 100 mg a colori, la stampa costa dai 70 centesimi a 1 euro. Per ultima cosa vi serve il nostro supporto in plexiglass che potete trovare in vendita sempre sul nostro sito www.poimbrick.com che va messo all'interno della riba davanti allo sfondo, quindi anche se lo sfondo è stampato su carta normale sarà il plexiglass a dare delicentezza e qui ci vanno incassate le basette, le basette originali che stanno dentro la bustina dei minifigure che appunto serviranno da sostegno per i minifigure stessi. Allora adesso partiamo con la preparazione, come preparare l'espositore. Partiamo dalla cornice, ovviamente la apriamo, allora leviamo il fondo, ok, questo foglio non ci interessa e anche il passepartout leviamo, questi non ci serviranno. Poi dopodiché all'interno c'è un separatore o comunque un distanziatore che serve per tenere il vetro bloccato in fondo alla cornice e il vetro è opzionale perché l'espositore può essere con il vetro, quindi i minifigure sono protetti dalla polvere o senza vetro, quindi i minifigure sono accessibili dall'esterno, servono per essere esposti e essere presi magari per un bambino che vuole giocare con dei minifigure da collezione, la mettiamo senza vetro e così può prenderli, giocarci e poi li rimette a posto quando ha finito. Come seconda cosa abbiamo detto ci serve lo sfondo, che è il sfondo che potete trovare sul nostro sito gratuitamente, i nostri sfondi sono già predisposti per essere tagliati nella dimensione corretta per la cornice, quindi 23 cm, quindi si taglia seguendo la linea rossa intorno. Adesso per comodità noi lo facciamo vedere già tagliato. Allora poi per l'ultima cosa vi servirà il supporto in plexiglass, il colore adesso è verde perché è una pellicola protettiva, una volta che l'abbiamo staccata sarà completamente trasparente e servirà appunto per tenere i minifigure in posizione e per dare la lucentezza al background. A un consiglio, per staccare la pellicola protettiva, siccome è parecchio aderente, vi consiglio di utilizzare un foam caldo su un angolo della cornice in modo che si stacca il primo pezzo e poi la levare tutta quanta. Una volta levata la pellicola il supporto apparirà così, quindi perfettamente trasparente e qui ci andremo a incastrare le nostre basette in modo tale che resteranno ben salde anche una volta capovolta la cornice. Però nel caso voleste essere più sicuri o comunque per farle durare di più nel tempo vi consiglio magari di mettere un po' di colla SuperAttack sul fondo in modo che la basetta sia completamente inamovibile. E così è come il display con i minifigure appoggiati. Una cosa importante da dire è che esistono due tipi differenti di display, uno da 16 fuori e uno da 18 fuori. Per esempio per i Simpson avremmo potuto utilizzare quello da 18 fuori e mettere gli animali in due basette separate. Allora prendiamo lo sfondo e prendiamo il tappo della ribba, il coperchio della ribba e appoggiamo sopra lo sfondo. Poi prendiamo il display con i mini piccoli montati e lo mettiamo sopra. Cerchiamo di allineare il tutto. Questo serve per appendere la ribba al muro e serve anche come gancetto per tenere bloccato il display frame. Io l'ho già allargato perché comunque il display ha una spessura di 2 mm, quindi lo allargate, lo applicate e poi dopo lo restringete. Allora abbiamo applicato il gancetto, adesso per chiudere la cornice, forse è più comodo mettere la ribba in verticale così. Allora una volta chiusi i gancetti la cornice è pronta e può essere appesa. Allora quindi per concludere quanto abbiamo speso per realizzare questo espositore? Abbiamo detto la cornice, l'abbiamo pagata 5 euro in offerta, altrimenti costa 10. Lo sfondo, la stampa su carta normale in A3, 100 grammi, l'abbiamo pagato 1 euro, più o meno, anche di meno. Mentre il nostro supporto costa 6,99, quindi con meno di 13 euro abbiamo realizzato questo espositore. Allora in descrizione vi lascio il link al nostro blog dove potete trovare tutti quanti gli sfondi che abbiamo realizzato per le serie che vanno dalla 1 alla 16 comprese serie speciali e anche sfondi personalizzati di Star Wars, di Marvel, DC, di Iron Man ed anche altri, molti altri, più di 100 sfondi abbiamo realizzato. E poi per chi fosse interessato il link al nostro negozio dove potete acquistare l'Astra in Plexiglas da 16 o da 18 fori. In un prossimo video vi farò vedere come modificare la cornice dell'IKEA alla riba per far entrare la serie della Disney, perché ha un personaggio particolare che è Ursula che è leggermente più grande degli altri, quindi ha fatto una piccola modifica per farcelo stare. Spero che il tutorial vi sia servito e noi ci vediamo sempre qui su Point Break.